A tua mamma non piace la tua fidanzata. Allora tu cosa fai? Lasci la fidanzata? Lasci tua madre? Le chiedi di assomigliare a tua madre? Allora, le ho detto che non ho un ottimo rapporto con mia madre, quindi per lei questo dovrebbe essere facile, quindi lascio mia madre. Lasci tua mamma. Virginia! Ho domandato a Pino, a tua mamma non piace la tua fidanzata? Male. Lasci la fidanzata, lasci tua madre, le chiedi, quindi chiedi a lei di assomigliare alla mamma. Io lascerei la fidanzata. Ma lui lascerebbe la mamma per la fidanzata. Ha detto così, quindi risposta sbagliata. Eliminati! Ma gliel'ho detto! Virginia e Pino! Ma quando mai te l'ho detto? Ma io ti ho detto alla mamma che sono importante. Ma per te? Ritigate, ritigate, ritigate. Ma dai, non fa un po'. Anche durante l'arrotolatura litigano, rendetemi conto, però purtroppo sono stati eliminati per la gioia di Filucci che sta ridendo. No, no, no. No, no. No, no. Grazie a tutti